ciao a tutti ragazzi sono darktubo31 oggi giocheremo la nostra ondicesima parte a pokemon bianco nello scorso episodio abbiamo aiutato bell e oggi sfideremo il capo palestra il capo palestra artemisio se volete iscrivetevi al canale e condividete il video che so come funziona questa palestra è fatta di miele ok poi per il resto ok a sfidare questo buffone quindi palestra di offensore possono soffinare la notte che si va poi perchè c'è il polio mi serve tranquillo non si può succedere niente visto che il suo capo mi è trovata pazzesca non aveva altro che salita io avevo fatto un caldo vabbè ma non solo dovevo andare a stare qua per tutto sono anche non solo dovevo andare dovevo andare dovevo andare dovevo andare ok non sono in questa situazione quindi non ha praticamente senso adesso inoltre ho risolto per una zona grafica per risparmiarmi di pipì ma ormai fai dire con l'alleganzia la mia è arte ok ma il genetivo è simbica tipo il vabbè quello lì per chiamare ok ho fatto apposta se potesse andare se potesse andare non mi hai spaventato però ti odio vapore vapore perché ci vabbè dai usiamo vapore ma ormai visto l'acqua non è che dovrebbe fargli poco cioè siamo così no usa foglie lama foglie lama ma foglie lama potrebbe farmi male e infatti poteva farmi male potrebbe fare male adesso usiamo pistola tranquille 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 è un pokemon bellissimo e adesso usiamo aerosolio ha 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 fatto fuori in un colpo solo dweeble 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 oh si questo qui è forte oh si questo qui è forte i rumori sono di miei genitori che parlano e hanno un tono di voce abbastanza alto io ho fatto brutto colpo dai ho furia volevo usarmi quel bastardo comunque tranquille fu fuori il nostro caro dweeble e vinciamo adesso muori sta zitto non mi parla sta zitto che mi ha fatto allora sono sicuro che qui c'ho no ok ero quasi sicuro che c'era un allenatore qui c'è un allenatore wow c'è un allenatore c'è un allenatore c'è un allenatore c'è un allenatore sono sicuro 100% nooo e cosa sta facendo la faffa un brod e poi non riesco mai a spingerti questo dovrebbe aprire questo dovrebbe aprire l'altro ah ah si questo qui mi ha fregato ma ci sono più buffoni wow ci sono più buffoni e gli ritorno all'inizio e gli ritorno all'inizio anch'io però perchè lo faccio oh mi piace ma se il movimento lascia stare c'è un allenatore c'è un allenatore attenzione lo sapevo lo sapevo lo sapevo oh forse mi apre qualcosa se lo batto oh e sono ancora oh anch'io però eh mettiamo tranquillo usare il rossoio dovrebbe bastare per vincere questa lotta infatti il rossoio è una mossa veramente forte soprattutto se è fatta contro un si waddle continuano a dare da questa parte basta aperto qua il sipario è là aperto qua il sipario è per qua potevo saltarlo quello continuo ad andare ai lati cioè anch'io ok c'è il buffone che ma dai il buffone è dopo è prima però questa palestra è incredibile ma era un fascino quasi misterioso questa palestra mi fa venire i brividi mi fa venire i brividi ma è sempre un buffone o no mi fa venire i brividi mi fa venire i brividi mi fa venire i brividi Se Waddle dovrei battere l'uso il colpo, quindi dopo lo curo, non al centro pokémon. Adesso lo curo. Ok, ho tirato la mia scheda. Adesso spero che, come negli altri video, sarebbe l'allenatore nero. Con l'ombra dell'allenatore. Adesso mettiamo per primo il nostro Tranquil. Tranquillo, non ce l'ho con te. Cordo. Artemisio D.S. Alcide. Cattivo. Poi diventano nemici. Cioè ci aiutano, poi diventano nemici nella lotta. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Ero solo. Ho fatto fuori. Era un po' più. Non c'era speranza. Wow, no, non voglio farmi la palestra facile. Individua. Individua sarebbe meglio contro... Invece di... Invece di... Fumisguardo. Cioè non... Non ho senso. C'è smosso. Adesso voglio cambiare Pokémon e mettere il mio... Sir Byne, sì, 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 sì. Sir Byne! Atta! Cosa sei adesso? Allora, un vorticerba? Non so se gli faccio KO. Perché poi, dopo tutto, lui è anche un tipo coleottero. Ecco, gli ho fatto metà. Proprio come la sua vita. Che come i suoi tipi. Kik, interruttore acceso. Kik, interruttore acceso. Kik, interruttore offeso. Livanni, Livanni. Livanni, scelgo te. Sì, mi usa un atto. Entomo blocco, cos'è che fa? Cos'è che faceva entomo blocco? Intimo blocco? Ok, adesso suggerirei di mettere il nostro Tranquil. Perché non gli faccio nulla. Proprio nulla. Entomo blocco, cos'è che fa? Pochissimo danno a Tranquil. E' una mossa, è tipo coleottero. Vabbè, l'abbiamo intuito. Usa foglie lama, è più veloce. E' un rasoio. Ok, fatto liscio. Oh, ho perso. Però sei davvero forte. Tieni, è la medaglia della mia palestra. Te la sei ministrata. Che bella. La medaglia Scarabeo. La medaglia Scarabeo. Contra medagliette. Abbederanno proprio fino a me. Ah, entomo blocco. Salviamo. Ok, il video di oggi si conclude. Iscrivetevi al canale, condivitevi, attivatevi con la panellina. E detto tutto ciò, ciao ciao.